amici ascoltatori dell'opinione equestre terza giornata di gare qui presso gli impianti della Red Sequestion Center categoria di un metro e cinquanta fasi consecutive qualifica per il gran premio di domenica categoria ranking andiamo a vedere la prova di Emanuele Gaudiano su Carlotta sette anni un figlio di Ciacomo partito bene sui primi due andiamo a vedere la parte 3, 4, 5 bene sul verticale bene la combinazione bene verticale di tavole gialle bene sull'Oxer 6 c'è un errore in rigaduta sulla gabbia numero 7 bene un altro errore in rigaduta sull'Oxer numero 8 si allarga per il verticale 9 altro errore sul Noxer numero 10 si allarga per la combinazione i verticali è un cavallo giovane sta continuando a lavorarlo adesso bene sull'Oxer parte finale chiude con 12 penalità il tempo di 46,72 è una situazione